La grande atletica ad Arezzo in due mesi di eventi e manifestazioni. Al campo di atletica Enzo Tenti il 12 e 13 maggio i campionati di società allievi maschile e femminile. Il 26 di maggio prima giornata campionati di società assoluti atletica leggera. Grande attesa per la 46esima edizione della scalata al castello e programma il 27 di maggio ad Arezzo. Valida per il campionato regionale 10.000 metri su strada e gara internazionale maschile e femminile. Il 2 e 3 di giugno è campo di atletica Enzo Tenti. In programma i campionati italiani master di staffetta prove multiple e 10.000 metri. Il 29 e 30 giugno e il primo di luglio campionati italiani individuali master di atletica leggera. Vivi con noi la grande atletica ad Arezzo.